Turris impegnata nel match casalingo contro il Monopoli. Domenica alle 17.30 all'inizio di un Tour de Force con 5 partite in due settimane. I Corallini, oltre ai Pugliesi, affronteranno Palermo, Paganese, Avellino e Casertana. Nel frattempo la sfida con i Biancoverdi, con Mr. Fabiano che potrebbe fare affidamento all'11 titolare simile a quello proposto nelle precedenti sfide. Riconfermati, il numero 1 a Bagnale in porta e gli attuali capocannonieri della squadra Daniele Franco e Luca Giannone. Solito ballottaggio in difesa tra Lorenzini e Dinunzio, con il primo favorito. Occhio al reparto avanzato, dove Persano potrebbe rimanere fuori per infortunio, al pari di Alma. Al suo posto scalpita Luca Pandolfi. Resta concreta la possibilità di rivedere in campo il capitano Longo. Il bomber ha avuto l'autorizzazione per tornare ad allenarsi in gruppo e potrebbe trovare spazio a partita in corso. La società intanto si appresta ad accogliere i propri tifosi allo stadio. Salvo eventuali disposizioni di carattere regionale, potranno sedere sugli spalti solo abbonati dei settori tribune e curva, che potranno quindi accedere allo stadio nel totale rispetto delle regole anti-Covid.